il bene oggetto di stima. A seconda della situazione che poi ritroviamo sul mercato e dunque la presenza o l'assenza di beni analoghi, noi possiamo indirizzare, possiamo selezionare, possiamo determinare il procedimento di stima che poi andremo a seguire e dunque questo può essere di stima diretta o sintetica o indiretta o analitica. Dunque si raccolgono i dati e si arriva alla determinazione del valore di stima. L'ultima volta ci siamo detti che è stimato questo valore di stima che in realtà viene solitamente chiamato valore capitale, a questo valore vengono apportate delle variazioni, variazioni derivanti dalla presenza, diciamo dalla caratterizzazione del nostro bene, quindi del bene oggetto di stima, rispetto ad alcune caratteristiche che il nostro bene ha o viceversa non ha rispetto al campione di immobili scelto. Dunque se il nostro bene presenta delle caratteristiche che sicuramente andrebbero ad influenzare il valore di mercato ma che il campione di beni non ha, è bene riconoscerle al nostro bene proprio per non andare a sottovalutare il valore del nostro bene. Al contrario se il bene oggetto di stima non presenta delle dotazioni, non presenta dei servizi, non presenta delle caratteristiche che invece ritroviamo nei beni oggetto del campione analogo, allora è bene riconoscere a questi altri beni un qualcosa in più proprio per non andare per non incorrere nel rischio di sopravvalutare il bene oggetto di stima. Dopo faremo qualche esempio e capiremo meglio questa questione. Rispetto a questo schema l'ultima cosa che diciamo è che il procedimento di stima diretto o indiretta a sua volta quello diretto può essere monoparametrico o pluriparametrico a seconda che il parametro di riferimento in base al quale viene effettuata la stima è uno e uno solo. Quindi il procedimento monoparametrico oppure sono diversi i parametri e dunque il procedimento pluriparametrico. Per quanto riguarda invece la stima indiretta o analitica sappiamo che non c'è nessun parametro di riferimento ma utilizziamo il metodo della capitalizzazione dei redditi, il procedimento del valore di trasformazione e poi il computometrico estimativo. Ovviamente i primi due per stimare il valore di mercato, il computometrico estimativo per stimare il valore di costo di un bene. Tutto chiaro fin qui? Ragazzi è chiaro? Abbastanza. Sì, è chiaro. Grazie. Allora, detto questo, questo ce lo siamo già detti e questo lo abbiamo detto. Ovviamente la scelta del procedimento di stima è essenzialmente guidata, in realtà direi è esclusivamente guidata dalla presenza di beni analoghi, abbiamo detto recentemente compravenduti o realizzati, ubicati nella medesima area di mercato. E dunque se si hanno a disposizione questi prezzi o costi, qui manca una R, prezzi o costi, allora posso adoperare un procedimento di stima diretta. Se al contrario non ho a disposizione questi prezzi o costi, devo necessariamente ricorrere a un procedimento di stima indiretta o analitica. Il procedimento di stima diretta, abbiamo detto, parte dalla raccolta di questi dati, quindi dall'individuazione di un campione di beni analoghi e poi si procede alla comparazione, al confronto tra il nostro bene e i beni analoghi e quindi al fine appunto di apportare aggiunte o detrazioni per evitare di dimenticare, diciamo di lasciare qualcosa di non stimato e dunque di avere dei valori poco congrui rispetto alla realtà. Allora, oggi guardiamo sempre in maniera abbastanza rapida il valore di mercato, cioè tra i diversi valori di stima ci soffermiamo sul valore di mercato. Perché ci soffermiamo su questo? Perché il valore di mercato è considerato, in realtà insieme al valore di costo, uno degli aspetti economici, meglio uno dei criteri di stima più importanti, principali. Adesso vediamo perché. Perché prima di tutto risponde alla maggior parte dei quesiti economici. Con riferimento infatti alla tabella che abbiamo visto la volta precedente rispetto agli scopi pratici per cui può essere chiesto di stimare uno dei criteri di stima, il valore di mercato riesce quasi sempre a rispondere a ragion pratiche che vengono poste al valutatore. Infatti sia nella situazione di, diciamo, per stimare il valore, diciamo, ai fini di una compravendita, oppure ai fini di una divisione ereditaria, ai fini di una stima di un danno, il valore di mercato riesce a rispondere ai quesiti economici. Inoltre, il valore di mercato riguarda la totalità dei beni mobili e immobili. Perché? Perché è normale che, diciamo, la maggior parte, userei di dire tutti i beni mobili e immobili, sono caratterizzati da un valore, quindi il valore di questi beni può essere stimato e questo valore è proprio assunto dal valore di mercato. Infine, il valore di mercato rientra nel calcolo degli altri criteri di stima, infatti l'abbiamo detto in maniera veloce nel corso della lezione precedente, però è così, il valore di trasformazione di un bene immobile, di cui si appunto si vuole stimare il valore di trasformazione, viene calcolato proprio partendo dal valore di mercato, o meglio, sottraendo al valore di mercato del bene trasformato tutti i costi necessari per la trasformazione. Dunque, diciamo, banalmente nella formula del valore di trasformazione rientra il valore di mercato. Stessa cosa accade per il valore di surrogazione. Il valore di surrogazione, vi ricordo, che è il valore di mercato di un bene atto a sostituire quello di cui dobbiamo stimare, appunto, di cui dobbiamo formulare il giudizio di stima e parte quindi proprio dalla constatazione che per determinare il valore di surrogazione si parte dalla stima del valore di mercato di un altro bene. Idem per il valore complementare. Il valore complementare, ossia la capacità di un bene di innescare rapporti, diciamo, di maggiore convenienza, maggiormente convenienti del nostro bene se è legato con altri beni, nella propria formula per la determinazione del valore complementare e rientra e è incluso il valore di mercato. Il valore di costo, che qui trovate essere nominato insieme al valore di mercato, molto probabilmente la prossima volta faremo una piccola parentesi sul valore di costo prima di proseguire con le tecniche di valutazione economica di progetti. Quindi è chiaro perché ci soffermiamo sul valore di mercato? Perché questo è considerato uno degli aspetti economici principali? Ragazzi, sì o no? Mi rispondete gentilmente? E' chiaro perché ci soffermiamo sul valore di mercato? Perché rispetto ai cinque criteri di stima che abbiamo nominato la volta precedente, noi ci soffermiamo sul valore di mercato? approfondiamo il valore di mercato? Sì Grazie Allora, vediamo adesso quelle che sono le principali parti Professoressa, scusi, mi potrebbe rispiegare un attimo il valore di surrogazione e il valore complementare che non ho fatto in tempo, diciamo, ad appuntare la definizione? Allora, prima di tutto li rivediamo di qui, così li chiariamo bene proprio dalla spiegazione che abbiamo fatto l'altra volta. Allora, il valore complementare è il criterio di stima legato all'aspetto economico della complementarietà cioè la capacità del bene di formare rapporti di complementarietà con altri beni che significa di legarsi, diciamo, ad altri beni al fine di valere di più ti faccio un esempio banalissimo, così, diciamo, entra bene in testa se io acquisto, diciamo, bisogno del consumatore, acquisto delle scarpe le scarpe, diciamo, hanno un'utilità se acquistate in paio se ne acquisto, se acquistate in coppia, no? se ne acquisto solo una, sicuramente, diciamo, un'utilità c'è però è minore rispetto a quella che ci potrebbe essere se le acquisto entrambe ricordi, la volta precedente abbiamo fatto degli esempi legati a un lotto di terreno e ai trulli presenti su di esso il lotto di terreno sicuramente ha un valore questo valore è maggiore se il nostro terreno diciamo, se sul terreno sono ubicati dei trulli e questi producono un reddito al proprietario dell'otto e dunque anche dei trulli quindi, se del bene noi dobbiamo stimare la capacità di questo bene di essere legato, di formare dei rapporti con un altro bene allora andiamo a stimare il valore complementare ok? chiaro, sì, sì ok, ovviamente questo nella pratica quando si utilizza se devo stimare un danno non totale ma parziale e quindi rispetto alla totalità devo, diciamo, togliere un pezzettino quello che ci siamo detti l'altra volta se io vado a abbattere i trulli c'è un danno che deve essere riconosciuto in termini monetari al proprietario dei trulli che però non è complessivo perché, diciamo, il lotto lui continua a mantenerlo ma è un danno parziale idem se c'è un esproprio parziale idem se c'è una limitazione all'uso di un bene perché ci sono dei vincoli quindi se c'è una limitazione parziale ok, questo è per il valore complementare il valore complementare quindi si stima facendo, diciamo, inserendo nella formula il valore di mercato dei beni per questo, diciamo, è il valore di mercato abbiamo detto che rientra nella formula del valore complementare vediamo adesso il valore di surrogazione il criterio di stima è il valore di surrogazione l'aspetto economico l'altra volta abbiamo detto la faccia del bene che, diciamo, se immaginiamo che il nostro bene è un po' dietro è un solido a più facce la faccia che vado a guardare è quella della surrogabilità cioè della capacità del bene di essere sostituito da un altro bene per lo stesso impiego quindi se io ho un bene devo stimare il valore di mercato devo stimare, scusatemi il valore di questo bene ma per ragioni X non ho dati a disposizione per stimare il valore di mercato del nostro bene io ne individuo un altro che può essere utilizzato per lo stesso uso ma che è effettivamente un altro è praticamente un altro bene quindi vado a stimare il valore del mio bene attraverso un altro bene che si chiama il suo surrogato il suo sostituito questo criterio di stima si adopera per la stima di danni per la stima di beni che per esempio non hanno mercato quindi io non ho beni non ho dati a disposizione per stimare il mio bene ma devo individuarne altri che appunto possono sostituire il mio bene potrebbero sostituire il mio bene per lo stesso uso è chiaro? Sì, 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 grazie Ok, no Di niente Ok Quindi Ok, quindi stavamo dicendo fatta questa premessa sulle ragioni diciamo dell'approfondimento del valore di mercato diciamo iniziamo a a guardare il procedimento proprio finalizzato alla stima del più probabile valore di mercato lo facciamo con riferimento ad un bene a destinazione residenziale Allora rispetto al titolo della presente slide mi soffermo sul termine sui termini il più probabile valore di mercato e quindi vi chiedo perché parliamo del più probabile valore di mercato? Perché ho aggiunto questa questo aggettivo probabile Perché non abbiamo la certezza matematica, no? Ok Perché non abbiamo questa certezza? Perché quello che stimiamo non è certo Perché se non abbiamo la vendita non può essere considerato ancora un valore di mercato Allora perché il valore di mercato non può essere considerato un prezzo che è un dato certo e proprio perché è il risultato dell'attività dell'estimatore dunque di un soggetto che a seconda dei dati di cui dispone va a stimare quello che ordinariamente vi ricordate bisogna seguire la teoria dell'ordinarietà ordinariamente dunque potrebbe essere diciamo valido per la maggior parte degli operatori di mercato di quel mercato è una previsione su un valore che in futuro potrebbe trasformarsi in prezzo ok allora vediamo le fasi ovviamente rispetto alle fasi che abbiamo visto alla fine della lezione scorsa qui le prime tre e dunque l'individuazione quindi la lettura del quesito di stima eh la individuazione dell'aspetto economico da considerare e del criterio di stima adesso ammesso adesso connesso eh in realtà ovviamente le abbiamo bypassate perché la prima fase quindi l'individuazione del criterio di stima qui l'abbiamo già fatto vi ho già detto che in realtà già nella lettera di incarico potrebbe essere esplicitato il eh criterio di stima da stimare e dunque quelle fasi le eh bypassiamo in maniera molto rapida ci soffermiamo quindi partiamo dalla conoscenza del bene partiamo quindi dall'approfondita analisi del bene oggetto di stima e quindi l'analisi delle caratteristiche tecniche e giuridico economiche del nostro bene adesso eh ci ci soffermiamo fatto questo possiamo individuare il mercato elementare omogeneo quindi possiamo individuare eh possiamo ricercare beni analoghi prima di tutto verificare che il nostro bene che no scusate che il nostro bene verificare che esistano beni eh analoghi a quell'oggetto di stima dal punto di vista qualitativo e quantitativo e dunque possiamo enucleare dunque estrinsecare eh diciamo identificare le caratteristiche che maggiormente rientrano nei processi di formazione dei eh dei prezzi di eh di vendita al fine di andare a proprio a considerare le caratteristiche prese in esame da compratori e venditori nelle fasi di contrattazione in questo modo ricerco i beni analoghi scelgo eh lo mettiamo nuovamente tra virgolette il procedimento di stima e determino vedete il valore capitale e posso infine eh effettuare l'ultima operazione quella legata alle aggiunte e o detrazioni al valore capitale per infine appunto finalmente giungere al valore di stima allora prima fase conoscenza del eh valore conoscenza del mercato cosa devo considerare devo considerare il mercato di riferimento nel quale il nostro immobile si colloca devo quindi considerare eh prima di tutto la destinazione d'uso se siamo in stiamo facendo riferimento a un bene a destinazione residenziale devo considerare il segmento del mercato residenziale eh dei immobili a destinazione residenziale devo considerare poi tutti i fattori considerati da compratori e venditori nelle fasi di negoziazione nelle fasi di contrattazione che significa significa che mi devo porre sul mercato consultare i principali operatori consultare i principali operatori di quel mercato dunque gli agenti immobiliari eh oppure gli uffici notarili oppure studiare analizzare dei report redatti con riferimento a quel mercato in quella zona e devo capire quali sono i fattori influenti maggiormente influenti nei processi di formazione dei prezzi immobiliari questo come lo faccio lo faccio andando ad analizzare il mio bene quindi a studiare il mio bene in particolare ad individuare tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche afferenti il mio bene eh allora eh rispetto alle caratteristiche intrinseche sapete bene che diciamo il termine stesso intrinseco indica le caratteristiche proprie del bene ossia quelle che attengono al bene ovviamente ehm queste diciamo caratteristiche eh riguardano diciamo il bene rispetto al suo stato al suo stato attuale ed è ehm diciamo l'estimatore deve appunto individuare studiare i meccanismi di mercato al fine di andare ad individuare le caratteristiche che maggiormente pesano nella formazione dei prezzi immobiliari allora queste caratteristiche sono di tipo posizionale di tipo tecnico tipologico di tipo giuridico economico vediamo quelle posizionali allora eh di posizione su queste il proprietario dell'immobile diciamo non può agire eh perché riguardano il l'ubicazione dell'unità immobiliare eh rispetto allo stabile quindi al fabbricato nel quale appunto l'unità eh si colloca rispetto al al fronte stradale rispetto all'asse diario e quindi per esempio riguardano l'esposizione prevalente dunque il numero di affacci dunque il diciamo eh gli affacci intesi come in termini di luminosità quindi non so ehm no rispetto ai punti cardinali rispetto alle strade trafficate o no e dunque la panoramicità se ci troviamo ad un piano eh alto la panoramicità rispetto a quello che diciamo dalla strada si può dalla dalla eh dall'affaccio si può eh vedere dunque se siamo eh prospicenti un eh un lotto vuoto un vuoto urbano oppure se ci sono fabbricati ad una distanza ravvicinata quindi la rumorosità se ci sono se c'è tanto traffico veicolare oppure se questo è ehm diciamo rispetto ad alcune ore della giornata quindi la prospicenza la prospicenza l'abbiamo detto e poi l'altezza rispetto al piano stradale ossia il livello di piano eh al quale si ehm si colloca il nostro immobile è normale che eh diciamo maggiori per esempio sono le esposizioni la doppia esposizione è quella maggiormente prediletta oppure l'esposizione a sud eh oppure si analizza l'esposizione al sole al vento se siamo in prossimità eh del del lungomare oppure diciamo del generale del mare l'esposizione è un una caratteristica che si guarda in maniera approfondita idem la panoramicità la panoramicità e quindi la faccio su una ehm su qualcosa su un eh su un elemento architettonico su un edificio o su un'area verde di pregio potrebbe influenzare il valore di mercato anche del 30% ehm la rumorosità abbiamo detto legata fortemente al livello di piano eh maggiore è più in alto si va più l'immobile è ubicato ad un livello alto eh minumore sarà la rumorosità perché minumore sarà diciamo il eh il il rumore del traffico veicolare la prospicienza abbiamo detto gli affacci se su spazi larghi quindi su piazze su lotti vuoti eh su aree verdi o su ehm diciamo su spazi ridotti quindi se i fabbricati sono tra di loro molto vicini eh e poi abbiamo detto l'ultimo aspetto rispetto alle caratteristiche intrinseche che si considera è l'altezza rispetto al piano stradale e dunque eh un che incide ovviamente sia sulla rumorosità sia sulla luminosità che però dipende molto dal bacino d'utenza e quindi dall'utenza dalla potenziale utenza che ehm diciamo può essere abitata può abitare meglio può abitare l'unità immobiliare perché faccio questo discorso è normale che il piano basso ha una eh minore sicurezza è caratterizzato da una minore sicurezza però e fateci caso particolarmente ehm apprezzato soprattutto dalle categorie più anziane al contrario il piano eh i piani più alti facciamo l'esempio del del piano attico è fortemente controverso perché se da una parte è più indipendente gode di uno spazio aperto più grande è sicuramente più freddo non ha nessuno sopra che diciamo funge da quasi riscaldamento naturale e dunque è ehm diciamo eh fortemente eh caratterizzato da una ehm condizione che potrebbe essere più o meno apprezzata a seconda appunto del ehm del contesto di riferimento nel quale ci troviamo e del mercato eh locale ragazzi chiaro il discorso che abbiamo fatto chiaro rispetto alle caratteristiche intrinseche di tipo posizionale sì vediamo adesso un po' di caratteristiche intrinseche di tipo tecnico tipologico allora questa categoria afferisce la dimensione dell'immobile in particolare la superficie commerciale non so se sapete già che cos'è la superficie commerciale solitamente negli annunci di vendita e quindi con riferimento al mercato immobiliare eh residenziale si fa riferimento alla superficie commerciale dell'immobile la superficie commerciale dell'immobile è il risultato della superficie lorda dell'immobile quindi all'ordo eh dei muri in realtà fino al cinquanta per cento se è in comunione con un'altra unità immobiliare fino ad un massimo di eh centimetri eh credo trenta o eh cinquanta a seconda del mercato però diciamo non entriamo molto in merito ehm più tutti gli tutte le pertinenze di uso esclusivo di ornamento di servizio calcolate eh con una ehm con una ehm con un coefficiente di omogenizzazione quindi eh per esempio se l'immobile eh è dotato di balconi questi rientrano nel calcolo della superficie commerciale ma non al cento per cento bensì con una ehm percentuale quindi un coefficiente di eh riduzione che eh è eh fornito dagli agenti immobiliari della zona proprio perché diciamo eh rispecchia quello che la zona ehm diciamo pratica e quindi idem se ci sono dei terrazzi dei giardini se ci sono dei box collegati all'unità immobiliare quindi con riferimento alle eh alla caratteristica dimensione dell'alloggio si fa riferimento alla superficie commerciale altra caratteristica età dell'immobile età dello stabile ehm anche rispetto a questa caratteristica un po' come il livello di piano non c'è un apprezzamento univoco perché perché è normale che da un certo diciamo momento in poi quindi da un'età in poi l'immobile potrebbe essere considerato un immobile d'epoca e quindi essere particolarmente apprezzato ehm proprio perché gode di eh particolari caratteristiche eh di pregio dal punto di vista estetico dal punto di vista sì delle modanature delle eh delle decorazioni al contrario è anche vero però che un immobile più moderno quindi un immobile più nuovo è caratterizzato da una ehm attenzione o comunque da una sì da delle caratteristiche legate alla eh allo stato di conservazione differenti differenti è normale quindi che ci sono diciamo a seconda del mercato degli apprezzamenti differenti rispetto all'età dello stabile in generale gli immobili vengono classificati in immobili unità immobiliari locate ubicate scusatemi localizzate ubicate in edifici nuovi in edifici simili a nuovo in quanto rimessi a nuovo e quindi eh diciamo rinnovati riqualificati e poi immobili eh ubicati in edifici eh vecchi a seconda dell'età si può anche sfociare nella categoria degli immobili ubicati in edifici d'epoca che diciamo potrebbero anche seguire un altro mercato proprio perché è come se si andasse a costituire un submercato un segmento ristretto di eh di di mercato appunto ehm parliamo dello stato manutentivo lo stato manutentivo come ben potete eh pensare influenza tantissimo il valore di mercato perché ovviamente eh una cosa è acquistare un immobile nuovo eh quindi dotato di eh impianti dotato di ehm accortezze anche dal punto di vista tecnologico eh diciamo recenti eh una cosa è acquistare un immobile simil nuovo quindi eh ristrutturato ma magari eh con diciamo una eh una struttura una parte eh la parte strutturale eh datata una cosa è acquistare un immobile eh da ristrutturare eh solitamente lo stato manutentivo la classificazione legata allo stato manutentivo è questa immobile eh che si trova in stato manutentivo eccellente e quindi in questa categoria rientra sia l'immobile nuovo sia l'immobile ristrutturato e quindi eh molto vicino alle caratteristiche di un immobile nuovo immobile eh abitabile quindi le cui caratteristiche permettono l'abitabilità dello stesso in particolare ehm non diciamo l'immobile non necessita di urgenti interventi di manutenzione o riqualificazione e infine ah beh immobile normale che si trova in uno stato normale dunque significa che necessita magari di piccoli interventi ma che tutto sommato eh ha uno stato eh medio e infine immobile da ristrutturare abbiamo già detto che questo costituisce un fattore particolarmente eh diciamo considerato da potenziali acquirenti compratori e venditori proprio perché eh questo fattore incide molto fortemente sul prezzo di vendita e diciamo capiamo la ragione ovviamente mh acquistare un immobile da riqualificare eh in tutto significa eh diciamo e significa mh aggiungere al prezzo di acquisto dell'immobile tutti i costi necessari per la riqualificazione al contrario acquistare un immobile già ristrutturato o comunque nuovo significa abbattere tutti questi costi in quanto non è necessario sostenereli eh vediamo adesso eh tutto chiaro vero sì sì vediamo adesso eh rispetto alle caratteristiche tecnico-tipologiche eh la caratteristica distribuzione interna ossia la caratteristica afferente alle caratteri diciamo alle peculiarità compositive e quindi diciamo eh strettamente connesse funzionali dell'unità immobiliare dunque la distribuzione degli spazi eh la divisione tra zona notte e zona giorno la ormai di moda il l'ormai di moda open space non lo so qual è l'articolo insomma ehm diciamo una serie di caratteristiche legate all'immobile che attengono alla distribuzione degli spazi poi la presenza di eh impianti tecnologici e quindi quali sono gli impianti e eh si fa uno studio approfondito su quelle che sono le età di ogni impianto al fine di vedere se sono a norma se hanno eh avuto nel corso degli anni passati una regolare manutenzione e dunque un eh diciamo se sono perfettamente funzionanti insomma si va a studiare un po' quelli che sono gli impianti si sono autonomi si sono centralizzati infine rispetto all'immobile si studiano le rifiniture eh rifiniture ossia eh i materiali usati per i pavimenti per i serramenti per i servizi si vede oltre alla tipologia di eh di rifiniture e dunque di materiali adoperati anche lo stato conservativo di ciascuno eh rispetto alle rifiniture ovviamente vi dico una cosa eh diciamo banale il ehm il proprietario può agire su queste nel senso che basta sostituirle e le rifiniture eh ovviamente possono essere ehm differenti possono cambiare vediamo adesso le caratteristiche giuridico economiche allora le caratteristiche giuridico economiche sono sempre delle caratteristiche proprie del bene cioè sono sempre delle caratteristiche intrinseche del nostro bene eh la prima eh è quella della situazione locativa eh ovviamente il valore di mercato cambia a seconda che l'immobile sia libero oppure occupato eh solitamente eh nella perizia eh se l'immobile è occupato in quanto non lo so eh locato e quindi ehm diciamo c'è un contratto di locazione in essere si scrive che il eh l'immobile si ipotizza che verrà liberato al momento del rogito perché è normale che nel momento in cui eh ci sia il passaggio di proprietà nel senso che il ehm il venditore vende il suo immobile cede in cambio di una somma di denaro al compratore è normale che l'immobile deve essere liberato in quanto il nuovo eh proprietario deve poterne usufruire come vuole la situazione locativa è un è un fattore che potrebbe influenzare il valore di mercato eh in quanto la presenza di eventuali inquilini di affettuari nella eh nell'immobile potrebbe andare a eh influenzare a influire sul valore di mercato ehm perché perché eh mettiamoci in due casi primo caso eh domanda diciamo il nostro ehm compratore eh acquista vuole acquistare per andarci a vivere ossia per soddisfare un proprio bisogno e dunque per utilizzare eh quelli immobili a destinazione residenziale per un abbiamo detto un proprio bisogno ossia come bene di consumo eh ovviamente se il bene quel bene è occupato non è fruibile è normale dunque che il valore di mercato diciamo sia minore pur come vi ho detto inserendo questa clausola in perizia che l'immobile verrà liberato al momento del rogito è normale però che se c'è un contratto che ne so 4 più 4 e siamo all'inizio del primo anno diciamo c'è un processo da seguire finalizzato alla diciamo alla a far sì che l'attuale inquilino diciamo venga vada via ecco seconda condizione il nostro il nostro potenziale compratore acquista per fare un investimento in questo caso la condizione per cui l'immobile è occupato potrebbe risultare una condizione positiva in quanto il nostro compratore ha già il nuovo proprietario di casa ha già un soggetto di riferimento per la locazione di quell'immobile potrebbe benissimo non sostituirlo e quindi potrebbe diciamo partire nuovamente il contratto di locazione semplicemente con un soggetto che è affitta differente è normale però che il diciamo a seconda poi delle condizioni in cui si trova l'immobile e diciamo della situazione regolare o non regolare di pagamento dell'attuale affittuario si vanno a dimescare dei meccanismi che potrebbero essere diciamo differenti la cosa diciamo in generale che dobbiamo sapere è che la presenza di un inquilino potrebbe essere una condizione positiva se l'immobile viene acquistato per fare un investimento se al contrario l'immobile l'acquisto dell'immobile nasce da un bisogno personale quindi per utilizzare l'immobile viene acquistato per utilizzarlo come bene di consumo per andarci a vivere banalmente è normale che la presenza di un inquilino va ad incidere negativamente sul valore di mercato ragazzi è chiaro? sì ok allora adesso vediamo le altre allora ci potrebbe essere anche la presenza di eventuali servitù passive sul nostro immobile faccio un riferimento un esempio molto veloce e mi riferisco ad un lotto vuoto se il nostro lotto vengono posti degli elettrodotti cioè delle tipo delle antenne che servono non so per le linee telefoniche quelli costituiscono delle servitù passive ossia noi cediamo parte della superficie del nostro lotto per la per la posizione per la presenza di questi di questi servizi di queste dotazioni tutte queste caratteristiche vanno inserite nella nostra perizia di stima idem se vi sono esenzioni fiscali che il nostro immobile di cui il nostro immobile vude se ci sono ipoteche sull'immobile o se ci sono vincoli faccio un esempio se sono nell'ambito di un immobile con valenza storica e quindi il nostro immobile prima di essere non lo so ristrutturato ha necessità delle approvazioni delle autorizzazioni meglio da parte della sovrintendenza perché ci sono dei vincoli storici legati alla struttura dunque alla sì alle pareti strutturali non lo so dell'unità immobiliare tutto questo va inserito nella perizia di stima e sono delle caratteristiche dell'immobile che vanno analizzate proprio perché alla fine il bene deve essere come abbiamo detto prima conosciuto in ogni sua parte e dunque è bene analizzare sviscerare ogni caratteristica di esso proprio per arrivare a un giudizio di stima quanto più congruo o quanto più veritiero possibile allora questa è una panoramica diciamo generale delle caratteristiche intrinseche ossia quelle che diciamo caratterizzano che proprio sono proprie del nostro bene posso andare avanti parliamo poi delle caratteristiche estrinseche quindi la seconda categoria di caratteristiche che il valutatore deve analizzare in maniera approfondita si riferisce alle caratteristiche estrinseche allora le caratteristiche estrinseche influiscono sul valore di mercato ma su queste il proprietario ovviamente non può diciamo intervenire sono caratteristiche che vengono dette di localizzazione dell'immobile rispetto al contesto urbano rispetto all'area urbana in cui appunto l'immobile è ubicato per esempio l'ubicazione dell'immobile rispetto al centro urbano è normale che la presenza del di servizi diciamo più che di servizi diciamo la vicinanza meglio del nostro immobile al centro urbano costituisce un fattore che è particolarmente apprezzato dai potenziali acquirenti anche in merito a questo l'apprezzamento potrebbe non essere univoco perché ci potrebbero essere delle categorie di persone che diciamo volutamente scelgono potrebbero scegliere di non andare ad abitare nel pieno centro e quindi la lontananza un po' la non prossimità rispetto al centro potrebbe costituire un fattore di gradimento in questo senso quindi con riferimento al centro urbano l'abbiamo già detto in un'altra occasione vi ricordo che ormai le nostre città non sono più monocentriche ma sono policentriche è normale quindi che quando facciamo riferimento al centro urbano non ci riferiamo più al centro creso storico al nucleo storico ma ci riferiamo ai centri direzionali o comunque pieni di servizi che possono dunque andare a costituire un valore aggiunto rispetto al valore del bene oggetto di stima la posizione dell'immobile rispetto al contesto urbano viene valutata anche in termini di accessibilità questo perché perché la più o meno vicinanza dell'immobile rispetto al centro ovviamente può essere superata da un sistema di trasporto pubblico ma anche privato efficiente se faccio riferimento a immobili ubicati in zone periferiche è alla presenza in queste zone di di non lo so di fermate metro di fermate autobus che in maniera efficiente riescono a favorire i diversi collegamenti è normale che diciamo già la presenza in una zona fuori dal centro potrebbe non essere più così vista in maniera negativa se a questo si aggiunge la presenza di servizi pubblici e privati o di attrezzature di infrastrutture in zone anche più o meno dislocate rispetto al centro quindi più o meno periferiche allora diciamo è un po' come se la non centralità potrebbe essere diciamo poco influente sul valore di mercato rispetto alle attuali tematiche all'attuale importanza assunta dalla salubrità dell'aria dalla presenza di aree verdi presenza di aree scarsamente inquinate è normale che il livello di qualificazione ambientale e la salubrità dell'aria incidono fortemente sul valore di mercato quindi la presenza di verde pubblico la presenza di piazze come punti di sosta la presenza di aree quindi il livello di inquinamento acustico ambientale atmosferico oppure la presenza di amenità di zone di luoghi di pregio vanno a influenzare fortemente il prezzo dell'immobile e i prezzi immobiliari in generale il valore di mercato del nostro immobile nello specifico l'ultima caratteristica di cui facciamo cenno è il grado di appetibilità dell'aria con riferimento a questa caratteristica solitamente il valutatore una volta che ha analizzato sviscerato le caratteristiche del mercato in cui si inserisce dunque di riferimento va a consultare gli operatori del mercato per capire il grado di appetibilità di quell'area grado di appetibilità inteso come la formulazione di un giudizio sintetico di quanto l'area sia gradita sia domandata sia dal punto di vista del mercato immobiliare apprezzata è normale che ci sono delle aree quindi con riferimento ciascuno alla propria città banalmente può fare questa associazione ci sono delle aree che per degli eventi che sono avvenuti negativi o positivi nell'immaginario possono essere considerate delle aree scarsamente o al contrario fortemente apprezzate questo purtroppo diciamo è il tempo poi che va un attimo a limare questo immaginario rispetto a quello che è l'apprezzamento delle diverse aree urbane che altro posso dirvi che abbiamo parlato delle attrezzature e quindi faccio riferimento a ovviamente ospedali biblioteche scuole uffici postali uffici bancari accessibilità abbiamo detto non accessibilità solo rispetto al mezzo pubblico ma anche al mezzo privato al mezzo privato quindi non lo so se sono vicina ad uno svincolo di una strada a scorrimento veloce alla tangenziale ad un'autostrada se al mezzo privato come ho detto al mezzo pubblico quindi autobus metro treno e poi devo considerare anche la distanza da sistemi sovralocali quindi aeroporto vi vanno a analizzare come vedete proprio a 360 gradi il mio immobile ma anche il contesto urbano nel quale esso si si trova tutte queste considerazioni poi confluiscono in maniera organica nella prima parte della relazione di stima che appunto il valutatore va a redigere che appunto è legata come obiettivo conoscere il bene oggetto di stima e conoscere il mercato di riferimento al quale poi per la formulazione del giudizio di stima si fa riferimento proprio per per andare a stimare tale giudizio allora vediamo adesso tutte quelle che sono ragazzi è chiaro un po' questa panoramica questo quadro che abbiamo tracciato rispetto alle caratteristiche vediamo adesso tutti questi dati tutte queste informazioni da dove le dobbiamo reperire allora diciamo questa questo passaggio il fatto di reperire delle informazioni valide delle informazioni congrue è fondamentale è affinché vi sia una una stima adeguata è normale che le fonti siano ottenibili allora prima di tutto diciamo che le fonti sono molteplici è che l'individuazione di fonti adeguate di fonti specifiche di fonti valide costituisce uno dei principali problemi della della stima allora il consiglio che vi do è in generale diciamo la prima fonte da consultare è quella relativa alle agenzie immobiliari perché perché gli operatori gli agenti immobiliari rappresentano gli operatori del mercato che diciamo per forza di cose nel senso che vivendo il mercato in pratica quindi praticamente lo conoscono in maniera approfondita essi conoscono il il mercato diciamo per ambiti di competenza è normale quindi che se diciamo vado ad individuare le agenzie immobiliari prossime vicine all'immobile in cui all'immobile di cui sto eseguendo la stima proprio perché solitamente le agenzie lavorano operano per ambiti di competenza e dunque conoscono in maniera approfondita alcuni ambiti urbani alcuni contesti urbani gli agenti immobiliari conoscono sia i canoni di locazione sia i prezzi di compravendita conoscono anche e questo è diciamo potrebbe essere fondamentale anche lo sconto indifferenziale di valore che sussiste che mediamente è praticato tra offerta di vendita e quindi quello che noi troviamo sull'annuncio di vendita è il prezzo effettivamente praticato poi sul mercato infatti essi guidando diciamo occupandosi di diversi immobili dalla fase in cui l'immobile viene posto sul mercato quindi viene posto in vendita alla fine del processo quindi alla contrattazione alla fase in cui vi è la vera e propria compravendita permettono di guidare l'estimatore di dare indicazioni circa quello che è appunto il differenziale lo sconto percentuale l'abbattimento tra prezzo tra valore offerta di vendita l'abbiamo detto che si chiama asking price e prezzo effettivamente di realizzo prezzo finale questi quindi gli agenti immobiliari costituiscono la prima la prima fonte da consultare abbiamo già detto che l'agente immobiliare diciamo occupandosi della vendita degli immobili dalla fase iniziale fino a quella finale quindi essendo fisicamente presenti anche nell'ufficio notarile per la stipula del contratto quindi per il rogito conoscono effettivamente i prezzi finali di vendita che sono i prezzi che a noi servono per la stima vi ricordo che ce lo dice anche un principio dell'estimo che la stima deve basarsi su prezzi di compravendita è normale quindi che gli operatori del mercato di agenti immobiliari conoscendo questi dati costituiscono una fonte preziosa per la formulazione dei giudizi di stima un'altra fonte a cui spesso si fa riferimento è costituita dalle imprese di costruzione essi esse le imprese costituiscono conoscono scusatemi i costi di costruzione essi conoscono diciamo in maniera approfondita i costi sia stimati che quelli effettivamente che sono stati sostenuti in quanto hanno diciamo redatto il computometrico estimativo afferente al progetto e durante la realizzazione sono stati i veri e propri protagonisti di eventuali varianti in corso d'opera e quindi eventuali imprevisti che hanno fatto oscillare in negativo o in positivo i costi di costruzione solitamente nell'ambito delle imprese di costruzione vi sono anche degli uffici vendita coloro diciamo quegli uffici che si occupano appunto della vendita successiva alla realizzazione degli immobili appena costruiti le imprese quindi se nell'ambito del loro organico hanno anche l'ufficio vendita vendono gli immobili e quindi conoscono i prezzi possono conoscere i prezzi di vendita inoltre un'altra fonte è costituita dagli studi di progettazione gli studi di progettazione o professionisti locali dunque di quel territorio conoscono certamente i costi perché attraverso dei listini attraverso dei listini regionali dei dei preziari vanno solitamente a stimare il costo di realizzazione complessivo dell'opera poi conoscono i prezzi e li conoscono proprio perché solitamente per mezzo della diciamo si occupano di della redazione di perizie di stima conoscono i riferimenti indicativi e generali sul del mercato immobiliare di riferimento locale conoscono quindi un po' quello che succede su quel mercato conoscono le forze i fattori che vengono considerati da compratori e venditori proprio per le fasi proprio per nelle fasi di negoziazione quindi di successiva compra vendita se ci pensate è così i clienti i committenti si rivolgono proprio agli studi di progettazione quindi ai progettisti per esplicitare quelli che sono i fattori quelle che sono le le esigenze i bisogni e quindi da questo ovviamente subito si capiscono quelle che sono quelle che sono le caratteristiche maggiormente apprezzate dal mercato locale un'altra fonte sono le banche o istituti di credito questi conoscono i prezzi diciamo dalle perizie che sono redatte dai tecnici abilitati per le erogazioni del mutuo per le operazioni di erogazione del mutuo infatti nell'iter proprio procedurale che poi deve portare all'erogazione del mutuo un tecnico abilitato interno all'istituto bancario in realtà non sempre interno perché ormai le banche si diciamo chiamano fanno capo a delle società di consulenza società di valutazione i tecnici devono valutare l'immobile e quindi anche gli istituti bancari gli istituti di credito possono costituire una fonte significativa per il reperimento dei dati dei costi e dei prezzi di compraventa più che meglio dei prezzi di compraventa gli studi notarili inoltre risultano di fondamentale importanza per il reperimento dei dati ovviamente i prezzi di vendita effettivamente praticati perché oggetto della stipula del contratto tra compratore e venditore sono inseriti sono inclusi nei nei rogiti quindi nei compromessi e poi negli atti di compravendita che appunto sono di afferenza degli studi notarili quindi i compratori e i venditori blocca diciamo è così l'iter è questo il compromesso indica un prezzo di vendita e indica il momento in cui il compratore e il venditore bloccano l'immobile diciamo bloccano il processo di vendita dell'immobile perché il compratore si impegna ad acquistare l'immobile al prezzo patuito e il venditore si impegna a fermare le ricerche di un potenziale acquirente e diciamo assicura la vendita a quello specifico soggetto il compromesso dunque è l'atto preliminare all'atto di vendita quindi al rogito le due parti si impegnano a vendere e a comprare l'immobile a quel prezzo e in quei tempi stabiliti l'atto di compravendita è l'atto finale di vendita è l'atto che appunto segna il passaggio di proprietà dell'immobile è un atto pubblico che può essere visionabile da tutti conoscendo gli identificativi dell'immobile quindi dei codici la consultazione ufficiale degli atti di compravendita ha un costo in quanto questo costo è legato al pagamento dei diritti notarivi l'agenzia delle entrate e quindi diciamo l'agenzia delle entrate come istituzione potrebbe fornire delle informazioni utili per l'assiva in quanto tale organo tale organismo esegue degli accertamenti piscali sull'immobile dichiarati e verifica la congruità dei prezzi ehm dei prezzi diciamo ehm già praticati che è eh archivia che ha archiviato infatti nell'ambito dell'agenzia delle entrate esistono degli archivi con i prezzi di compravendita degli immobili ovviamente degli immobili dichiarati perché gli immobili dichiarati a seconda della ehm della superficie delle pertinenze di cui ciascun immobile gode e di un'altra serie di parametri della eh categoria eccetera eh a ogni immobile vengono associati vengono associati dei eh costi di tipo fiscale appunto eh delle spese meglio di tipo fiscale e quindi per accertamenti fiscali l'agenzia delle entrate esegue appunto delle eh degli accertamenti sugli immobili eh gli ehm gli organi giudiziari quindi ehm gli diciamo qui siamo in un'altra situazione siamo nell'ambito di ehm di aste giudiziarie ossia di procedure di esecuzione giudiziaria degli immobili se un immobile a seguito di eh una non so di un mancato pagamento del mutuo delle rate del mutuo deve essere venduto all'asta viene richiesto ad un giudice eh esecutore eh no non esecutore un giudice ehm che per mezzo del tecnico perito del CTU eh va a stimare l'importo a base d'asta quindi esegue proprio una stima dell'immobile ehm una stima eh appunto finalizzata alla formulazione del giudizio di eh di valore legato all'immobile che costituisce il ehm il prezzo a base d'asta è normale che questo prezzo a seconda del tempo della durata della eh della procedura d'asta si abbassa perché ogni seduta d'asta ovviamente il prezzo viene eh ribassato questa è una un mercato anomalo è un mercato in cui eh vi è solo un compratore e un eh venditore e quindi è un valore che va preso in considerazione certo però eh adeguandolo nel senso prendendolo con riferimento al mercato nel quale ci troviamo che è un mercato eh anomalo ehm l'ultimo gli ultimi due eh gli ultimi due eh elementi che eh costituiscono un'importanza fondamentale per il riferimento dei dati sono degli istituti di ricerca sul mercato immobiliare e questi eh con riferimento soprattutto a dei report a dei rapporti che di volta in volta vengono ehm vengono periodicamente vengono redatti eh rispetto all'andamento dei mercati delle principali città italiane e sono soprattutto utili per una conoscenza preliminare del mercato della città diciamo ci si potrebbe spingere anche al mercato di specifiche zone eh in quanto ehm diciamo permettono di ottenere delle informazioni sull'andamento sul trend del mercato sul trend dei prezzi praticati con anche riferimento a dei listini rispetto a che indicano dei valori medi eh di vendita degli intervalli dei range con riferimento a diverse destinazioni di uso ehm ovviamente eh le indicazioni riportate su dei record su dei rapporti su delle relazioni periodiche di questi istituti di ricerca sono delle indicazioni di massima sono delle indicazioni che devono essere prese come riferimento generale prima indicazione perché non costituiscono dei prezzi effettivamente praticati che invece come abbiamo detto già diverse volte devono essere prese in considerazione per effettuare la stima eh tra gli istituti di ricerca sul mercato immobiliare più importanti vi nomino Nomisma Scenari Immobiliari l'osservatorio del mercato immobiliare e Pumpe Lumi e Borsini diversi Borsini Immobiliari i Borsini Immobiliari sono dei eh degli osservatori locali che appunto studiano i mercati di riferimento di delle diverse zone per esempio c'è il ehm quello della Camera di Commercio CCIAA che appunto va a eh redigere dei listini dei valori immobiliari che ogni eh tot tempo credo ogni sei mesi quindi a livello semestrale vengono aggiornati eh appunto per dare delle indicazioni sul trend di mercato stessa cosa come abbiamo visto già praticamente per la prima esercitazione fa l'UMI eh l'UMI dal diciamo da sul sito ci sono dal 2006 però eh diciamo nei loro archivi già da prima eh riportano a livello semestrale i valori medi di vendita con riferimento alle diverse destinazioni d'uso e anche alle diverse ai diversi ehm livelli di conservazione diversi stati manutentivi stati di conservazione dell'immobile sia con riferimento ai valori di mercato sia eh con riferimento ai canoni di locazione ripeto e questo è fondamentale eh la consultazione delle relazioni eh degli istituti di ricerca eh impegnati appunto nell'analisi dei eh del trend di mercato costituiscono una prima indicazione effettuare una eh valutazione una perizia di stima basandosi solo ed esclusivamente sulle quotazioni o sui valori di mercato o su dati riportati in rapporti eh di questi istituti di ricerca costituisce un errore eh esorbitante proprio perché non abbiamo rispettato uno dei principi dell'estimo per cui il prezzo è il fondamento della stima e noi non ci siamo basati su prezzi di compravendita effettivamente praticati e verificati sul mercato ma ci siamo ehm in quel caso ci saremmo eh semplicemente ehm affidati a dei dati che sono dei dati frutto di medie frutto di ehm sì medie di quotazioni immobiliari che in questo caso non possono essere utilizzati come dati di eh riferimento assoluto ma come indicazione di massima utile riferimento stop idem vale per gli annunci di vendita come abbiamo già detto prima la skin prices ossia l'offerta di vendita quella che trovate sui cartelli affissi in agenzie immobiliare o sui siti immobiliare.it eccetera costituisce solo ed esclusivamente un'indicazione di massima noi non possiamo raccogliere un campione di immobili costituito da immobili in vendita perché gli immobili ehm i beni analoghi oggetto analoghi al bene oggetto di stima devono essere degli immobili compravenduti di recente già compravenduti perché di questi deve essere fondamentale estrapolare conoscere il prezzo di vendita che è il prezzo a cui io devo fare riferimento per stimare per formulare il giudizio di stima ragazzi questo concetto è chiaro? Sì sì Ok e tutte prego chiaro chiaro tutte le fonti che abbiamo elencato sono tutte chiare? Devo soffermarmi su qualcuna o posso andare avanti? No solo una cosa io tante volte ho consultato quella della gamma del commercio ma non me la fa quasi mai consultare che bisogna fare una specie di iscrizione speciale perché allora potrebbe essere allora potrebbe essere che ti richiede diciamo come se devi identificarti cioè dire che stai facendo questa ricerca ai fini della non lo so di una perizia di stima e quindi potrebbe essere che è necessario consultare diciamo dopo aver fatto una sorta di iscrizione ecco dall'iscrizione appunto ce l'ho pure però bisogna pagare praticamente io ho sempre pagato ecco questo è il concetto gratuito non c'è no ma idem la domanda infida sì sì no ma idem per consultare gli atti di compravendita sono dei gli atti notarivi sono dei documenti diciamo pubblici io li posso li posso consultare però devo pagare i diritti notarivi cioè devo pagare è come se dovessi pagare al notaio il lavoro che ha compiuto ossia la redazione di quell'atto notarile sia del del compromesso sia dell'atto di compravendita e quindi devo effettuare diciamo un pagamento prima di poter consultare i dati in realtà vi dico diciamo la maggior parte dei la maggior parte dei periti ovviamente stimano il nella pratica stimano il valore di mercato affidandosi agenzie immobiliari vi dico anche agli uffici vendita delle imprese di costruzione che solitamente diciamo mettono a disposizione il loro sapere in maniera gratuita quelli sono dei dati che seppur ufficiali consultabili sono a pagamento grazie però quella dell'agenzia d'entrata no invece no quella dell'agenzia dell'entrata no come l'UMI però sono dei quella dell'agenzia dell'entrata e dici gli accertamenti ai fini fiscali quindi conoscendo l'identificazione c'è anche l'osservatorio proprio dell'agenzia d'entrata che si che lo dà quella che abbiamo fatto anche sulla quale almeno io non so gli altri ho fatto diciamo la valutazione dell'immobile dei persone però l'UMI ha un valore medio sì valore medio sì che in realtà tu pensa ci è medio rispetto al tempo perché un arco un orizzonte temporale di sei mesi cioè quel valore è valido per il primo semestre duemilaventuno cioè da dicembre a giugno è sempre valido secondo rispetto ad un orizzonte spaziale ampio tutta la microzona terzo è un valore che è il risultato proprio di una media matematica tra un campione di immobili uno che ha non lo so una veranda enorme uno che non ha neanche un balcone uno che ha cioè è proprio una media matematica quindi è un valore da prendere assolutamente con le pinze con le pinze diciamo io solitamente lo utilizzo all'inizio per capire un attimo il range nel quale diciamo devo muovermi è alla fine per capire se il mio immobile rispetto al valore di stima al quale sono giunta effettivamente più o meno si trova in quel range ma anche se diciamo poi alla fine il risultato al quale giungo diciamo non verifica l'inserimento del mio valore in questo range che mi che mi propone lui non importa nel senso che sicuramente è specifico e quindi più preciso quello che ho ottenuto quello è un assolutamente un valore di massima frutto di una media sì 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 infatti questo così è vero uno deve fare un'indagine un po' più vasta appunto come il cambio di commercio i borsini delle varie agenzie e questa dell'agenzia immobiliare e poi fa una media e poi appunto aggiunge tutti i valori intrinsechi come giustamente lei ha detto di ciascuno immobile e anche quelli strinseci e poi alla fine viene la valutazione un po' più specifica sì ecco però che poi non sarà mai proprio precisa perché nell'ambito dello stesso dello stesso palazzo io vedo che ci sono valutazioni insomma dal terzo al quarto piano lo stesso identico appartamento uno un prezzo quello un altro ecco e quindi questo no diciamo non potrebbe essere sì sì ma anche perché magari quello è stato ristrutturato l'altro no ecco è stato conservativo certo certo assolutamente sì il consiglio che vi do sempre è quello diciamo appena vi conosciuto l'immobile quindi analizzato l'immobile andare in agenzia e dire io ho questo immobile ha queste caratteristiche nel recente passato nell'arco dell'ultimo anno hai venduto immobili con caratteristiche simili simili se mi risponde di sì a quanto l'hai venduto di ciascun immobile venduto mi sapresti indicare lo stato conservativo la presenza o meno di box auto balconi giardini diciamo pertinenze di uso esclusivo la superficie diciamo di creare di ciascun immobile una sorta di quadro riepilogativo delle principali informazioni le vado a confrontare con il mio in modo tale da capire se al mio alla fine devo poi apportare delle aggiunti o delle trazioni questo è l'iter che in teoria andrebbe eseguito è ovvio che rispetto ad andare banalmente sull'UMI fare una ricerca durata 10 secondi è ovvio che questo è un processo un iter procedurale più lungo però sicuramente che porta ad un risultato molto molto più affidabile è una diciamo lasciatemi dire questo redigere una perizia di stima a questa difficoltà perché poi diciamo le fasi sono sempre le stesse è una volta che uno ha ormai di mistichezza con quelle che sono le caratteristiche da osservare dell'immobile non è complicatissimo la rogna più grande è proprio questa reperire i dati perché è solo e soltanto dal reperimento di dati validi dati affidabili che io riesco ad arrivare ad un risultato quanto più possibile valido qua noi lo scriviamo deve essere il più probabile valore di mercato altrimenti non ha senso io un sacco di volte mi sono trovata anche non lo so sto facendo un un lavoro di ricerca relativo al mercato delle aste immobiliari esiste un portale delle aste giudiziarie cioè tutte le aste concluse sul territorio italiano se consultate questo portale vedete delle perizie di stima fatte malissimo che magari diciamo partono dal presupposto utilizzano esclusivamente le informazioni ricavate dall'UMI è sbagliatissimo tant'è che poi si giunge ad un valore di stima X e poi si raggiunge dopo magari diverse aste battute ad un prezzo di aggiudicazione finale completamente diverso questo cosa significa che la stima è stata fatta malissimo perché magari non c'è neanche attinenza è stata fatta considerando le caratteristiche più o meno sommarie dell'immobile e dei dati che sono assolutamente indicativi non affidabili non precisi ripeto diciamo la difficoltà sta nel reperire dati affidabili e nel seguire dati validi cioè informazioni valide non orientative ma specifiche ok allora quindi conosciuto in maniera approfondita il bene oggetto di stima si procede con la terza fase ossia quella legata all'individuazione del mercato elementare omogeneo quindi la presenza di beni analoghi la ricerca dei beni analoghi di prezzo e caratteri inuti recentemente compravenduti abbiamo detto deve essere fatta dal punto di vista quantitativo e qualitativo cioè mi spiego meglio gli immobili da prendere in riferimento che andranno a costituire il nostro campione di beni analoghi devono essere quantitativamente e qualitativamente simili al bene oggetto di stima allora devono essere dunque analoghi diciamo dal punto di vista quantitativo nel senso che la dimensione deve essere degli immobili che andremo a prendere in considerazione deve essere pressoché appartenente ad un range dimensionale che oscilla da un valore minimo ad un valore massimo al cui interno è incluso il valore dell'immobile oggetto di stima da stimare questa cosa già la sapete è ovvio che abbiamo già studiato che mediamente i tagli più piccoli quindi gli immobili più piccoli hanno dei prezzi unitari come più alti più elevati perfetto è che al contrario invece questo perché abbiamo visto il grafico prezzo unitario o quantità al contrario è normale che prezzi un prezzo più basso unitario più basso lo si può ritrovare se la superficie dell'immobile è più grande proprio per non andare a prendere immobili molto più grandi che poi hanno magari un prezzo unitario più basso rispetto a quello che potrebbe essere stimato per il nostro bene vi consiglio di escludere quelli quindi gli immobili che quantitativamente risultano assai dissimili rispetto a quell'oggetto dissima quindi fatto questo verificata dunque l'esistenza di un mercato elementare omogeneo quindi di beni analoghi quantitativamente quantitativamente e qualitativamente analoghi a quell'oggetto di stima io vado a reperire i dati i dati abbiamo detto che li reperisco attraverso queste fonti fatto questo posso scegliere abbiamo già detto che questo termine non è precisissimo scegliere il procedimento di stima individuare il procedimento di stima il procedimento di stima diciamo siamo nel nell'ambito di un procedimento di stima diretto perché abbiamo effettivamente verificata l'esistenza di un mercato elementare omogeneo può essere monoparametrico pluriparametrico abbiamo già detto monoparametrico se la comparazione è condotta in base ad un unico parametro dunque si assume che i beni analoghi utilizzati per il confronto siano differenti dal bene da stimare per una sola caratteristica badate bene questa è un'ipotesi nel senso che il campione è vero che il campione deve essere quanto più simile qualitativamente al bene oggetto di stima quindi se diciamo dovremmo arrivare a individuare un campione di immobili che hanno tutti il box auto che hanno immobili che hanno tutti un giardino esclusivo tutti ubicati ad un piano intermedio tutti che hanno un doppio affaccio insomma dal punto di vista delle caratteristiche intrinseche e ovviamente estrinseche perché ragazzi l'immobile deve essere ubicato nella stessa micro zona di mercato devono essere tutte queste caratteristiche omogenee potrebbe differenziarsi il campione dal nostro immobile esclusivamente per una caratteristica questa perché è un'ipotesi perché in realtà diciamo trovare una corrispondenza assoluta è complicato che cosa si fa si va a scegliere certamente un campione di immobili analoghi cioè quanto più simili al bene oggetto di stima che però potrebbero anche essere per alcune caratteristiche leggermente diverse queste caratteristiche leggermente diverse devono essere considerate cioè devono essere in questa fase individuate identificate e poi nell'ultima fase considerate per eventualmente adeguare e aggiustare il valore capitale stimato chiaro o lo ripetiamo ragazzi chiaro o lo ripetiamo questo concetto cioè avete inteso perché qui c'è scritto si assume che potrebbe cortesemente ripetere almeno per me allora dicevo una volta che abbiamo individuato e verificato che il mercato esista un mercato elementare omogeneo noi dobbiamo identificare il procedimento di stima da seguire siamo nell'ipotesi in cui decidiamo di seguire un procedimento di stima monoparametrico quindi un solo parametro di confronto che cosa facciamo ipotizziamo assumiamo che i beni analoghi siano diversi dal bene da stimare per una sola caratteristica perché questa è diciamo un'ipotesi lasciatemi dire quasi forzata perché in realtà il campione di beni analoghi potrebbe differenziarsi per altre caratteristiche noi che cosa dobbiamo fare dobbiamo individuare queste caratteristiche identificarle e poi le andremo a considerare nell'ultima fase cioè quando una volta stimato il valore capitale andiamo a fare le aggiunte e le detrazioni al fine di aggiustare di adeguare il valore capitale stimato quindi obiettivo di questa fase individuare un campione di immobili quanto più simili a quell'oggetto di stima però se noi troviamo un campione di immobili che hanno tutti l'ascensore che hanno tutti un giardino di pertinenza però tra questi immobili uno si trova al primo piano e tutti gli altri si trovano al terzo piano quello al primo piano per questa fase in questa fase noi lo consideriamo ancora poi vedremo come fare cosa fare ok? è ovvio però che di ciascun immobile queste caratteristiche magari differenti le dobbiamo andare a considerare quindi le dobbiamo andare a identificare al fine poi di considerarle appunto per la stima chiaro un po' meglio sì grazie ok di nulla allora andiamo avanti ok quindi solitamente nel procedimento di stima monoparametrico il parametro di confronto è la superficie prima abbiamo detto quale superficie solitamente nell'ambito del mercato immobiliare si va a considerare come l'abbiamo chiamata superficie superficie utile lorda no superficie commerciale ah no commerciale scusa no no allora che in realtà parte dalla superficie lorda però a questa diciamo aggiunge la superficie del tipo dei balconi dei giardini dei terrazzi di eventuali cantine opportunamente omogenizzate in merito a questo vi metto vi carico su drive un documento vediamo se lo trovo velocemente eh sì allora vi trovo eh vi vi trovo vi carico eh questo documento dell'agenzia delle entrate che eh costituisce una sorta di ehm di istruzione diciamo di linee guida per determinare appunto la consistenza degli immobili urbani questo è sempre dell'agenzia dell'osservatorio del mercato immobiliare in particolare ad un certo punto c'è come calcolare la superficie commerciale vediamo la superficie commerciale è pari alla somma di una unità immobiliare parte di un edificio ok quindi siamo nell'ipotesi eh diciamo che stiamo valutando oggi quindi appartamento dotato o meno di pertinenze esclusive compreso in un edificio ad uso residenziale o promiscuo vabbè con presenza cioè di altre unità immobiliari a uso commerciale o terziale allora superficie commerciale è pari alla somma dei vani principali dei vani accessori diretti comprensiva della quota delle superfici dei muri interni e perimetrali più la superficie omogenizzata delle pertinenze di uso esclusivo di ornamento e dunque terrazze balconi patie giardini e di servizio cantine posti autocoperti e scoperti box ok ragazzi è chiaro che cos'è la superficie commerciale sì ok vediamo velocemente come si misura perché vi ho detto questo ve lo metto su su drive però potrebbe essere utile capire anche come effettivamente si misura allora si misura considerando i vani principali e accessori diretti cioè banalmente tutti gli ambienti tutti i vani dell'appartamento misurando la superficie all'ordo delle murature interne ed esterne perimetrali queste ultime quindi quelle perimetrali vanno considerate fino alla mezzeria nei tratti confinanti con le parti di uso comune o con un'altra unità immobiliare quindi siamo qui massimo unità B massimo 25 cm se accanto c'è una unità immobiliare adiacente quindi fino alla mezzeria i muri interni quelli perimetrali che sono computati per intero sono da considerarsi fino ad uno spessore massimo di 60 cm quindi se siamo nell'ipotesi di un immobile con muri spessi perché è muratura portante quindi un immobile d'epoca l'immobile il muro si calcola fino a 50 cm i muri in comunione vengono computati nella misura massima del 50% fino ad uno spessore di 25 cm ok? Vediamo le pertinenze di ornamento pertinenze esclusive di ornamento balconi terrazze e eh similari la superficie fino al contesto fino al contorno esterno giardini eh aree scoperte eh fino al confine della propria proprietà ovvero se questa è delimitata da un muro di confine in comunione da un altro malofatto fino alla mezzeria eh pertinenze esclusive accessorie quindi cantine scusi professoressa non ho capito per cui i terrazzi vanno terrazze e balconi vanno considerati tutti no qua ti sta dicendo diciamo la questione dei muri e poi vedi dopo c'è superficie omogenizzata massimo mi sono spiegata ti sta dicendo no no quello l'ho capito ma quando parla di balconi e terrazzi e similari no non si si considera fino al contorno esterno però poi quella superficie la devi omogenizzare vedi la superficie scoperta eh ad area scoperta è pari al dieci per cento fino alla superficie dell'unità immobiliare al due per cento per la superficie eccedente balconi vedi balconi eh qualora le pertinenze siano comunicanti con i vari principali o accessori misura del trenta per cento fino a vettici chiaro 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 grazie qui stiamo facendo questo discorso solo relativo ehm diciamo al contorno poi ci sono tutte le superficie scoperte questi sono i giardini quindi dieci per cento balconi terrazzi o similari trenta per cento e poi cinquanta per cento pertinenze esclusive accessore accessorie se comunicanti venticinque se non direttamente comunicanti con i vari principali accessori vabbè ve lo metto e lo vedete eh qui ti dice tutto il contorno per misurare poi di quest'area devi fare devi eh rispetto a quest'area devi utilizzare il coefficiente di omogenizzazione che è a seconda dello spazio diciamo nel quale ci troviamo balcone coperto giardino esclusivo sarà una percentuale questa percentuale ehm in prima battuta si eh richiede agli agenti immobiliari ossia agli operatori del mercato locale che conoscono il mercato in seconda battuta si controlla il riferimento valido a livello nazionale che è questo qui ok sì scusi cosa sono le ehm rimetta un po' quando parla del le pertinenze esclusive accessorie cosa sono? allora accessorie sono cantine soffitte vedete lo dice qua ah ok sono di ornamento accessorie eh pertinenze di uso esclusivo possono essere di ornamento quindi terrazze, balconi, pati e giardini di servizio cantine, posti auto coperte e scoperte e box auto comunque questo ve lo metto volevo solo vedere la data di questo documento credo sia l'ultimo sono quasi certa vabbè poi ovviamente va anche su tutte le altre destinazioni d'uso quindi vedete magazzino ehm proprio edifici laboratori negozi ovviamente diciamo ehm noi quasi sempre se ci troviamo negozi tradizionali se ci troviamo a ehm effettuare la stima di un appartamento ehm consideriamo quello che abbiamo letto prima posti auto vabbè ve lo metto e avete in modo di leggerlo un po' ehm autonomamente ok quindi eravamo arrivati qui quindi il siamo nell'ambito di un procedimento di stima monoparametrico con una sola ehm con un solo parametro di confronto la superficie commerciale come si eh stima il valore di mercato si stima risolvendo risolvendo la seguente proporzione laddove WM eh il valore di stima del bene del bene oggetto appunto eh di analisi sta alla superficie commerciale del bene oggetto di stima come la somma dei prezzi di mercato dei beni analoghi che fanno parte del nostro campione di immobili sta alla sommatoria delle superfici commerciali dei beni analoghi quindi che cosa si fa? eh facciamo un passettino indietro così arriviamo eh a questo poi facciamo una piccola pausa eh individuato il procedimento di stima da seguire eh che abbiamo detto essere non una libera scelta ma ci sono dei modelli dei paletti quasi ehm delle situazioni delle condizioni che mi indicano qual è il procedimento di stima da seguire eh io decido di eh adottare un procedimento di stima monoparametrico dunque ho individuato un campione di immobili fortemente simili tra di loro analoghi tra di loro in cui solo uno è di cui di questi di queste caratteristiche solo uno è il parametro di confronto ossia la superficie cosa faccio rispetto ai beni analoghi bene uno bene due bene tre bene quattro e bene cinque facciamo un'ipotesi di un campione formato da cinque immobili analoghi vado a rilevare i prezzi di vendita dei beni analoghi quindi prezzo totale del bene analogo prezzo totale del bene uno prezzo totale del bene due prezzo totale del bene tre del bene quattro e del bene cinque oltre a questo vado a determinare in realtà vado a rilevare il termine giusto per questo le superfici commerciali dei beni oggetto di confronto superficie commerciale bene uno superficie commerciale bene due superficie commerciale bene tre superficie commerciale bene quattro e superficie commerciale bene cinque L'unico elemento che teoricamente differenzia i prezzi è la superficie, dunque gli altri elementi sono ragionevolmente analoghi, ragionevolmente i medesimi, quindi il nostro bene appartiene alla stessa microzona dei beni oggetto di stima, quindi abbiamo detto che per definizione di microzona gli elementi che concorrono alla formazione dei prezzi sono i medesimi e posso andare ad applicare questa proporzione. VM0 è l'incognita, è il valore di mercato del bene che io voglio stimare. La superficie commerciale del mio bene io l'ho calcolata, quindi io del mio bene, vi ricordate, tra le superfici, tra le superfici, tra le caratteristiche tecnico-tipologiche ho calcolato la dimensione dell'alloggio. I prezzi dei beni oggetto di confronto li ho stimati, quindi io qui inserisco la somma prezzo totale del bene 1 più prezzo totale del bene 2 più prezzo totale del bene 3 più prezzo totale del bene 4 più prezzo totale del bene 5. sta alla somma delle superfici dei beni oggetto di comparazione, superficie del bene 1 più superficie del bene 2 più superficie del bene 3 più superficie del bene 4 più superficie del bene 5. In questo modo, se io vado a sviscerare, a risolvere questa proporzione con VM0 che è l'incognita, io ottengo superficie, ottengo sub 0 per sommatoria dei prezzi totali fratto sommatoria delle superfici dei beni analoghi. laddove vi ricordo che la sommatoria, questo al numeratore e questa sommatoria al denominatore, che cosa rappresenta? Un prezzo medio perché è esattamente la media aritmetica. fatto questo posso individuare, posso calcolare alla fine arrivo all'esplicitazione del valore di mercato del bene oggetto di stima perché tutto il resto ragazzi sono dei numeri. che cos'è quindi questa proporzione? È una relazione che traduce in termini numerici il principio di Evans che noi abbiamo visto l'altra volta, cioè che in un mercato in concorrenza perfetta il meccanismo di formazione dei prezzi vale per tutti i beni, cioè un po' la teoria dell'ordinarietà. Io posso calcolare il valore di mercato del mio bene a partire dai prezzi dei beni analoghi. quindi io ho rilevati i prezzi totali dei beni analoghi, è calcolata la superficie del mio bene analoghi, del mio bene oggetto di stima. Io posso calcolare, posso determinare il valore di mercato del bene oggetto di stima. C'è bisogno che faccia un esempio numerico? Magari sì. Allora, facciamolo Allora, facciamo utilizzando una tabella Allora, siamo nell'ipotesi, quello che vi ho eh illustrato prima Immobile 4 Immobile 5 E qui ci mettiamo il mio immobile Immobile 0 Quindi numero immobile Poi prezzo Facciamo un esempio numerico 150.000 euro 120.000 euro 125.000 euro 120.000 euro 130.000 euro Chiaro? Questo è ovviamente l'incognita, il valore di mercato Quindi aggiungiamo Quindi aggiungiamo Immobili No, numero Immobile Prezzo di vendita Quindi rilevato ragazzi, questo è un prezzo rilevato Poi parametro di confronto Cioè superficie commerciale Chiaro? 645 100 Facciamo questo 90 120 120 110 Vedete è in un range più o meno Facciamo 135 Questo è un po' più grande La nostra superficie è 110 Quindi applichiamo adesso La superficie, la proporzione Il valore di mercato Del bene 0 È uguale alla sommatoria Ragazzi lo scrivo così per Dei prezzi Di vendita Fratto la sommatoria Delle superfici Di parentesi Per la superficie Del bene 0 Ok? Del nostro 55 Quindi Vediamo Allora Facciamo la sommatoria dei prezzi Quindi 150.000 Scrivo tutto Questa volta scrivo tutto 120.000 145 Dammi un attimo Tutto fratto 100 Più 90 Più 120 Più 110 Più 135 Più 110 Tutto questo Parentesi quadra Per 110 Facciamo questa somma 150 per 120 Quanto fa? 645 Tutta la sommatoria 645 Quell'altra viene 555 345.000 Giusto? Sì certo Il tutto Ok fratto Per Per Pratto 110 No? Per fratto 555 Viene 125 5500 Per 110 Viene 127.837 Almeno così Il prezzo finale Quanto è? 127.837 Giusto? L'ho scritto bene? Prego? L'ho scritto bene? Sì Sì 127.837 Così dice la calcolazione Perfetto Allora questo È il valore di mercato Meglio il valore capitale Stimato A partire da un campione Di immobili analoghi Vedete dal punto di vista Quantitativo Diciamo una quantità Oscilla in un range 90 130 metri quadri Di cui conosciamo I prezzi di vendita Questo È il valore Capitale Stimato Diciamo Fatta questa Questo passaggio Non abbiamo ancora Terminato Il processo Per la formulazione Del più probabile Valore di mercato In quanto c'è L'ultima fase Che dobbiamo ancora Mettere a punto Ossia quella Legata All'individuazione Di eventuali Aggiunti O detrazioni Da apportare A questo Valore capitale Ragazzi è chiaro? Sì sì grazie Sì ok Quindi diciamo È chiaro il procedimento Che dobbiamo seguire Dobbiamo individuare Un campione di immobili Di questi immobili Dobbiamo conoscere Il prezzo di mercato Di ciascuno Dobbiamo conoscere Il prezzo di mercato Dal prezzo di mercato Ovviamente Dobbiamo conoscere anche La superficie Di La superficie commerciale Dobbiamo calcolare La superficie commerciale Del nostro immobile E dobbiamo applicare Questa relazione Che in realtà È una proporzione Che mi permette Appunto Di calcolare Il valore di mercato Del bene oggetto di stima A partire Dai prezzi Di beni analoghi Prezzi e superfici Commerciali Di beni analoghi Ok Tuttavia Bisogna sempre Aggiungere le cantine I box I balconi Sempre Giusto? Questo si fa Alla fine E lo vediamo dopo È l'ultima fase Adesso facciamo Una piccola pausa Giusto? Dieci minuti E poi andiamo avanti Cosa faremo? Vedremo Con attenzione L'ultima fase In modo tale Che il procedimento Di stima Monoparametrico Lo abbiamo spiegato Diciamo abbastanza bene Andando nel dettaglio Di ciascuna fase Passeremo Al procedimento Di stima Pluriparametrico Laddove andremo A spiegare Semplicemente Ad illustrare Semplicemente I caratteri teorici Non vedremo Vedremo il procedimento E capiremo Quali sono le differenze Rispetto al procedimento Monoparametrico E poi Passeremo Al procedimento Di stima Indiretto Vedremo La capitalizzazione Dei redditi In maniera Anche questa Semplicemente Teorica In modo tale Che poi Vediamo La prossima volta Se ci sono Dei dubbi Vediamo Un po' Di approfondire E poi passiamo Al valore Di costo E poi Alle tecniche Alle due tecniche Di valutazione economica Dei progetti Che dobbiamo Illustrare E sulle quali E sulle quali Poi si basa L'esercitazione E scusi Prima citavo Il principio Di Enios Ho capito bene Gievons Adesso te lo faccio vedere Grazie Il principio Di indifferenza Di Gievons Cioè In un mercato E in concorrenza Perfetta E in equilibrio Di lungo periodo Non ci possono Essere Prezzi Unitari Differenti Va bene Questa è la ragione Risultando infinita L'elasticità Della domanda Per ogni prezzo A voi non interessa Questo Vi interessa Solo sapere Che Il meccanismo Di formazione Dei prezzi Unitari Nell'ambito Di una Microzona Di mercato È sempre Il medesimo Cioè Le forze Che concorrono A formare I prezzi Di mercato I fattori Influenti Nell'ambito Di una Microzona Di mercato Sono sempre Gli stessi Grazie Di niente Ok ragazzi Possiamo Salutarci Ci rivediamo Tra dieci minuti Sì Grazie Sì Ok A tra poco Sì Grazie a tutti. 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 Ok, adesso. Grazie a tutti. 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 a tutti.